Pribbies. Accovacciatevi, fino ad appoggiare le mani al suolo. Facendo forza sulle braccia, con un saltello distendete le gambe. Le mani sono parallele, ai muscoli pettorali. Mantenendo i gomiti, aderenti al busto, e facendo forza su tricipiti e pettorali, effettuate una flessione sulle braccia. Risalite, e contemporaneamente con un nuovo saltello, riavvicinate le gambe al corpo. Successivamente riportatevi in posizione retta. Tutte le fasi di questo esercizio, devono susseguirsi il più rapidamente possibile.